stanno lì sul rosso ad aspettare qualcosa gli uomini con la valigia il vento li sbandiera le cravate gli violenta il viso e loro hanno la valigia delle partenze ma non partano ancora come si chiama chi parte partente partitore e chi invece ritorna per la poposa stella come un colore sopra il capo bobo tala già da sopra il ginello sopra il capo bobo tala già da sopra il capo bobo tala già da sopra il capo bobo grazie a tutti